Musica Cari telespettatori buonasera e bentornati a Primo Cittadino Oggi ci occupiamo del comune di Monbaroccio insieme al suo sindaco Emanuele Petrucci Bentornato nei nostri studi sindaco Grazie, grazie per l'invito Vi ricordo a casa che potete intervenire in diretta telefonando allo 0721 86 14 33 Oppure inviando un breve messaggio di testo mi raccomando al 338 4968 250 su Whatsapp Partiamo dalla sanità, uno dei temi principali dei comuni che ci circondano logicamente anche di Monbaroccio Dicevo partiamo dalla sanità con l'ospedale di comunità che è previsto a Villa Grande E che comincia a vedere la luce grazie anche ai fondi del PNRR Sindaco, un importantissimo investimento per Monbaroccio e per il territorio Assolutamente sì, dottoressa Zonghetti Forse l'intervento più importante che viene fatto su Monbaroccio negli ultimi decenni Perché comunque la regione Marche e Agenas, Ministero, hanno scelto Monbaroccio come luogo strategico Per un intervento fondamentale per quelli che sono risorse PNRR destinate agli ospedali di comunità Che si inseriscono in un percorso provinciale per quella che è la prossimità territoriale Di quella che debba essere la sanità prevista da PNRR appunto con la missione 6 Quindi è un percorso per noi decisivo, fondamentale Abbiamo fatto tutti i percorsi che dovevamo fare in Consiglio Comunale Oggi è arrivato il riscontro o comunque dovrebbe arrivare a breve il riscontro della provincia Per quello che è l'iterra autorizzativo di quella che è una variante che deve passare per le competenze provinciali E faremo a strettissimo giro anche l'ultimo consiglio per l'approvazione definitiva di quella che è la variante Quindi i percorsi sono stati fatti Ora è tutto in mano alla regione Dai tecnici ai fondi appunto Che a fronte anche di quello che è successo Quindi gli aumenti dei costi legati in particolar modo all'impiantistica Dovrà vedere un'integrazione delle risorse stanziate perché appunto ci dovranno essere maggiori risorse Per quello che sono gli obiettivi anche di un ospedale che debba essere totalmente efficiente a livello energetico I tempi invece sono quelli dettati dal PNRR dunque il 2026 Sembra ma manca pochissimo Manca pochissimo sì Purtroppo i tempi sono stretti Aprile 2026 è la scadenza ultima Ci auguriamo sicuramente di rispettarli Ma io credo che la regione con i suoi tecnici e con le persone addette Riuscirà a fare quanto previsto nei termini indicati Abbiamo visto poco fa l'area interessata invece L'area del campo sportivo L'area del campo sportivo questa è stata un'area molto vincolata Per quelle che potevano essere le possibilità del Comune di Monbaroccio da mettere a disposizione Anche perché quando ci è stato chiesto come intervenire nell'impossibilità di intervenire Era una struttura esistente perché Agenas non la vedeva consona Per quelle che erano le indicazioni proposte dai fondi PNRR L'unica area ma anche la più strategica che potevano mettere a disposizione era questa Un'area che interessa 14.000 metri Che era consona per i 12.000 metri quadri che ci aveva chiesto la regione Marche In termini di spazi E prossime le due viabilità che sono le due più importanti arterie Che sono l'SP32 che collega Pesaro E via Turlo che collega l'SP80 a Sufano Diventa strategica anche in termini di dare risposta a un territorio Che guarda nella seconda e nella terza città delle Marche Proprio per il numero di abitanti e per valore di quelle due grandi città Che confinano con il mio meraviglioso Comune Anche a livello regionale è nata ormai da tempo una riforma della sanità Era intervenuto più volte invece riguardo di Marche Nord? Sì, era intervenuto più volte in merito a quella che era Marche Nord come azienda ospedaliera Perché non la ritenevo legalmente costruita in maniera corretta Quindi non sono contro le aziende ospedaliere Ma sono per le aziende ospedaliere che facciano un lavoro E che siano costituite giuridicamente in termini corretti Quindi ho evidenziato un po' di problematiche Fra cui la prima in assoluto che poi evidenzia anche la Regione Nella nuova riforma che sta facendo Che era quella della mobilità passiva Marche Nord doveva dare una risposta a quello che era una riduzione di mobilità passiva E purtroppo non c'è riuscita Quello che invece ho portato avanti E che sto portando avanti È cercare di coinvolgere quanto più possibili i sindaci In quelle che sono le valutazioni di pareri Del percorso sanitario che competono ai sindaci La legge 13 prima del 2003 e oggi la legge 19 dell'agosto 2022 Prevedono che i sindaci debbano esprimere un parere In primis anche sull'operato dei direttori generali Purtroppo io in tre anni e mezzo di mandato Non ho mai avuto questa possibilità che è data la conferenza dei sindaci E per fare ciò abbiamo bisogno di raccogliere il materiale Per poter esprimere un parere un sindaco deve raccogliere il materiale E non è stato così facile fino adesso poterlo recepire Quindi credo molto che la legge prima 13 del 2002 e 2003 E la 19 del 2022 In particolar modo l'ultima Hanno 17 articoli che riguardano i sindaci 17 articoli che riguardano gli enti locali E questi articoli devono essere da noi esauditi Devono essere rispettati anche perché il territorio ha bisogno di una risposta A proposito di risposte Per quanto riguarda la RSA Bricciotti? La RSA Bricciotti ci siamo impegnati in questi anni Anche a fronte di alcune discussioni avute nel mio territorio Con alcune figure che volevano avere maggiore chiarezza Su quella che è una struttura strategica, storica Che ci affeziona da sempre Ci siamo impegnati in questi anni nel fare Di avere più confronti La prima proposta che abbiamo avanzato All'assessore Salta Martini Era quella contemplata con l'Università di Urbino Con l'IRCA, con l'ASUR E con l'Ambito Territoriale e Sociale 1 Laddove abbiamo presentato un progetto importante Legato all'Alzheimer Dove abbiamo proposto la struttura Bricciotti A fronte di 40 posti letto convenzionati Che attualmente ha Di trasformarli in struttura legata a Malattia degenerativa come quella che è l'Alzheimer Che purtroppo colpisce sempre più Situazioni sempre più famiglie perché la malattia d'Alzheimer Naturalmente non coinvolge solo il malato stesso ma tutto l'apparato familiare E che quindi a fronte di una domanda che necessita il territorio abbiamo fatto un ITER Che grazie a questi enti che hanno collaborato Permettono secondo me di dare una risposta parziale a un fabbisogno territoriale E questa è stata approvata all'unanimità nel Consiglio Comunale del 31 di maggio del 2021 Quindi siamo a quasi due anni dell'approvazione La seconda proposta è quella che abbiamo avanzato Sia in Consiglio Comunale a settembre Poi portata con l'Ambito Territoriale e Sociale 1 Nel distretto dei sindaci Quindi approvata anche e valorizzata anche E ringrazio dai sindaci del distretto 1 di Pesaro Laddove prevedevamo un percorso legato alle demenze Che riguarderebbero 20 posti di diurno e 20 posti H24 Anche qui un percorso condiviso con l'ambito territoriale Inserito nel piano triennale di ambito territoriale E che serve a dare una risposta a un altro importante fabbisogno Che il territorio ha e a cui fa difficoltà a dare risposta Leggendo anche la bozza di legge regionale Uscita che sta uscendo in questi giorni Queste questioni che abbiamo avanzato Quindi demenze e Alzheimer Sono recepite dalla sanità regionale A fronte di una riforma che è in essere Quindi io credo che possa essere Un percorso da valutare anche in termini di risposte immediate Chiaro che la struttura pubbliciata ha bisogno di interventi Interventi specifici mirati strutturali Noi abbiamo valutato questo con dei tecnici E ci sono degli interventi da fare anche a stralci eventualmente Perché capisco che in questa fase La sanità è concentrata nei fondi PNRR Perché queste hanno delle scadenze prestabilite Quindi bisogna correre, correre, correre per portare a casa Quelle risorse di fondi PNRR Dall'altra però non ci si può dimenticare di alcune strutture Che possono avere un'importanza fondamentale sul territorio Il briciotti è una di queste Quindi anche a stralci si può arrivare a un risultato Non oggi per domani Ci concentriamo sul resto Ma non dimentichiamo nel fabbisogno e nelle strutture esistenti Passiamo invece dagli anziani e ai giovani Poi torneremo a parlare di sanità Le chiedono se sono previsti degli spazi per bambini e ragazzi Perché i parchetti comunali sono scandalosi Ha scritto un telespettatore Che cosa risponde? A che ha pienamente ragione Perché il primo intervento che andremo a fare Stiamo aspettando uno stanziamento dalla regione Marche Il parchetto principale che è quello di Villa Grande Che soffre di una vetustà È un parchetto parrocchiale Dove comunque cerchiamo di interfacciarci Ma non è di diretto interesse Oggi abbiamo sottoscritto una convenzione Con la parrocchia di Villa Grande Per creare un'area più sinergica Anche perché sarà soggetta Speriamo a un finanziamento di 70-80 mila euro Che stiamo intercettando con la regione Per renderlo anche fruibile Alle persone diversamente abili Quindi un recupero del parchetto Concentrato anche alla disabilità Le altre due difficoltà O meglio, l'altra difficoltà L'abbiamo in particolar modo a Montegiano L'altra frazione su cui Anticipo che il 25 di aprile Ci sarà il ritorno della festa Della crisi a Secco Con Su cui vorrei entro la fine del mio mandato Che ormai è all'ultimo anno L'ultimo giro di boa Vorrei riqualificare anche in termini di giochi Per i bambini Perché ci sono delle situazioni Che sono purtroppo brutte E non belle da vedere Ma sono l'amministrazione comunale Concentrata anche su questo sicuramente Attenzione rivolta anche alla prevenzione Abbiamo visto il grande successo riscosso Dall'iniziativa dedicata allo screening Gratuito per la glicemia Che se non ricordo male Si è svolta domenica 20 marzo Quindi la popolazione ha risposto in modo positivo Ha risposto in modo positivo Ringrazio l'Associazione Diabetici In particolar modo il Presidente Muratori Per il grande impegno E tutti i volontari che si sono prestati A passare la loro domenica con noi monbaroccesi E sono venuti fuori dei dati Dottoressa Zanghetti importanti Siamo riusciti grazie a loro A analizzare 50 circa dei miei concittadini E di questi 10 persone dovranno recarsi Dal loro medico di condotta Per dei dati non consoni che sono venuti fuori Quindi un'attività di prevenzione Che grazie a queste persone Grazie al volontariato Ma anche nell'ottica di quella prevenzione Prevista dal PNRR Dove ci sono forti risorse dedicate a questi percorsi Permette di raggiungere dei risultati Che vanno a sgravare persone All'interno di un percorso Che dovrebbe e potrebbe rischiare Di essere più dannoso in futuro E quindi la prevenzione ci permette di risolvere questo L'altra prevenzione che è stata fatta E che continuiamo a fare A caldeggiare È quella che proponiamo con l'Avis Io ogni volta che vengo qua Dottoressa Mi permetto di ricordare Questa fondamentale associazione E ringrazio la procedente Crigioni Per gli ottimi risultati che ha ottenuto Perché in questi due anni Da quando è presidente Non solo ha raddoppiato il numero degli iscritti Ma ha triplicato il numero delle donazioni che avevamo La donazione che è fondamentale Per chi soffre Diventa fondamentale anche per chi più dona Perché chi dona potrà sicuramente Ogni tre, sei mesi o due mesi Quando vorrà andare a donare Tutelare anche se stesso Perché saranno analisi complete E con quelle analisi si capiranno Anche determinati percorsi Che riguardano la propria vita Che ne beneficia Come ne può beneficiare sicuramente Coloro che saranno aiutati dal nostro donare Esatto Se aiuta se stessi e gli altri Esatto Passiamo ai lavori pubblici Ecco qui abbiamo una lunga lista Ma partirei da Palazzo del Monte Sicuramente una delle opere più importanti Assolutamente La più sentita Abbiamo Quando abbiamo fatto un progetto Che era quello contemplato Dalla lista che mi ha Assecondato in questi anni Che prevedeva investimenti I primi due percorsi Che abbiamo scelto Nel nostro programma Erano la salute E la cultura E su questi ci siamo concentrati Riteniamo che siano due pilastri fondamentali Per giudicare una società Perché è una società istruita È una società che vive di cultura È una società che contempla la salute È una società che può permettersi Anche di fare tutto il resto Palazzo del Monte Ha avuto il più grande intervento In termini di casse comunali Che complessivamente prevede 650 mila euro di intervento 450 sono di casse comunali 200 mila sono di fondi regionali E ringrazio la Regione E in particolar modo L'Assessorato della Cultura Per averci sostenuto in questo percorso Un percorso che finalmente rivede Riaprire un palazzo storico Un palazzo che della cultura Può fare anche economia Un palazzo che offre delle stanze da visitare Un palazzo che potrebbe diventare interessante Per i mercatini di Natale Nonché per, come vedete qua Il Museo Scientifico Sarà all'inaugurazione del palazzo Presentata una conferenza Con l'Università di Urbino E con altissimi professionisti Di altissimo livello Che saranno presenti a Monbaroccio quel giorno Naturalmente siete tutti invitati Presso? Metà maggio Per il 15 di maggio Ci siamo posti l'obiettivo 14-15 di maggio Dovremmo esserci Anche se il palazzo Ha complessivamente bisogno Di interventi complessivi Per circa 4 milioni 4 milioni e mezzo Con questo primo stralcio Lo riapriamo E questo è importante Chiaro che non abbiamo fatto Solo un intervento mirato La riapertura Ma abbiamo anche integrato 180 mila euro di risorse Tra fondi ministeriali E fondi regionali Per un progetto preliminare Che è pronto E quindi questo è il primo stralcio Progetto definitivo E progetto esecutivo Quindi abbiamo anche contemplato Un percorso che non va solo Alla riapertura del palazzo Ma anche all'ottenimento di risorse Contemplate nel tempo E vediamoci sono delle stanze Veramente magnifiche Siamo venuti su qualche mese fa E devo dire che Insomma anche C'è un bel impatto Vedere tutti quei lavori Quei reperti Quindi speriamo Che i cittadini possano Poterlo vedere il prima possibile Ed entrare Assolutamente Dalla metà di maggio Era chiuso Credo che la chiusura Fosse del 2017 Siamo ormai Nell'orbita dei 6-7 anni Sicuramente Questi sono gli operai Li avete presi all'opera Hanno fatto un grandissimo lavoro Che è stato anche incondizionato Purtroppo Dico Per quello che riguarda Gli enti pubblici Da sisma bonus E eco bonus Che ci ha impedito Di poter Integrare delle figure Dentro lavori pubblici Come questo Perché le aziende Erano molto concentrate Su quello che erano Le scadenze Di altri interventi In particolare Dei privati Lavori anche Per quanto riguarda Il dissesto idrogeologico Assolutamente sì Abbiamo preso Dei fondi importanti Per il dissesto idrogeologico I primi fondi Erano di 18-20 mila euro Che ci hanno permesso Da progettazione Di sistemare Parte delle mura Del centro storico Potendo poi Intervenire Con 220 mila euro Di intervento Tutti a fondo perduto Con fondi ministeriali Interverremo di nuovo Con un nuovo progetto Per la parte Lato Fonte Corniale Quindi lato Sud di Monbaroccio Con un nuovo progetto Da 16 mila euro Che riguarda Delle difficoltà Che riteniamo Possono avere le mura Quindi sono tutti progetti Che stiamo facendo In termini di prevenzione E che riguardano appunto Questo lato Di Monbaroccio Che secondo noi A fronte di una cisterna storica Che risale Non so quale epoca Ci sia una dispersione Di acqua È chiaro che Dovremmo fare i sondaggi Le verifiche Per cercare Capire la gravità Della situazione E metterla Sicuramente in sicurezza E poter comunque Ottenere le risorse Che ci possono servire Negli interventi Che dovranno essere dedicati Oltre a questi Di dissesto idrogeologico Sono stati fatti Interventi importati In strada panoramica Siamo già intervenuti Con 150.000 euro Abbiamo fatto dei lavori Di 50-60.000 euro Presso il cimitero Sempre di dissesto idrogeologico E abbiamo fatto Dei lavori Di ripristino Di strade E di recupero Di dissesto idrogeologico In particolar modo Dal Pontaccio In altre aree Che ci hanno permesso Anche a fronte Dell'ultime alluvioni Che sono avvenute Dove abbiamo ridotto Fortemente i danni Perché grazie a quegli interventi Siamo riusciti a mitigare Le problematiche Avete messi tutto tanto Pure per le strade Le strade dissestate Abbiamo investito C'è tanto da fare Sulle strade Abbiamo fatto degli interventi Altri sono previsti E chiaro è che abbiamo Strada Mondrigo E altre strade Che sono soggette A degli interventi Che cerchiamo di programmare Step by step Abbiamo fatto interventi Importanti su Via Tour Abbiamo fatto altri interventi Come la strada cimiteriale Cerchiamo di interagire Con la provincia Su altri percorsi Chiaro è che Anche le difficoltà Derivanti dalla tipologia Di meteo Che stiamo affrontando Non ci aiuta Su quelle che sono Le difficoltà Di messa in sicurezza Delle strade Chiaro La prevenzione è fondamentale E ci aiuta tantissimo Andiamo avanti con le slide Quindi chiedo aiuto Alla regia Così che le commentiamo insieme Perché dicevamo La lista è veramente Lunga Appena ci propongono La prima Poi vi parleremo Degli eventi Tutto quello che accadrà Nei prossimi mesi 270 mila euro Per il progetto Piazza d'inverno Di cosa si tratta? Cultura e sociale Torno sempre al percorso Iniziale dei due pilastri Su cui ci siamo ponderati Quando abbiamo fatto Il nostro programma elettorale Questo è un intervento Confinanziato con la regione Marche Confinanziato all'80% La regione Marche Per il recupero Di un chiostro Che abbiamo Un centro storico Che è qua Adesso Questo è una versione iniziale Sarà sicuramente migliorativa Quella finale In fase di realizzazione Che prevede la copertura Di un chiostro Atta a far sì Che l'anziano D'inverno Nonché i giovani Possano trovare uno spazio Che diventa la piazza Una piazza però d'inverno Quindi un locale Che ha confinanti musei Quindi troveremo Il museo della civiltà contadina Piuttosto che la chiesa di San Marco Dove sarà dedicato Il museo di Ciropavisa Piuttosto che il museo Dell'arte sacra E far vivere i ragazzi Piuttosto che gli anziani In un ambiente come questo Che gli permette di viverlo 365 giorni all'anno Fare attività di condivisione Culturale e sociale Nonché attività di cineforum Piuttosto che un'assemblea Piuttosto che altro Diventa uno spazio interattivo Sotto tutti i punti di vista Paravamo prima Dell'importanza dei giovani Quindi anche questi punti Questi luoghi di aggregazione Sono fondamentali In una comunità In particolar modo nei borghi Dove abbiamo un gran bisogno di vita Vero Andiamo avanti Nuova illuminazione pubblica In centro storico Questo è un altro passo importante Che abbiamo attuato Abbiamo Almeno È chiaro che Come si dice Me la suono Me la canto Però è un percorso importante Che ha visto la nostra amministrazione Coinvolta Nell'obiettivo di raggiungere Quanto più possibile Il recupero dell'illuminazione Da vecchie illuminazioni a LED Quindi atto al risparmio energetico Atto all'ambiente Atto all'efficienza Anche economica Di un bilancio comunale Il prossimo stanziamento Sarà quest'anno Di 50 mila euro In un primo step E un secondo step Di 50 mila euro Nel 2024 Per il recupero Di tutta l'illuminare del borgo Che va a completare Un'opera di 5 anni Abbiamo messo risorse Ogni anno Per arrivare A un obiettivo Del 75-80% Di cambio di illuminazione pubblica Con efficientamento energetico E credo che Riusciremo a raggiungere Quell'obiettivo Quindi non solo Risparmieremo Ma faremo Un gran lavoro Anche per l'ambiente Possiamo tornare un attimo indietro Nella slide di prima Se riusciamo Quella subito prima Dove c'era anche il nome del progetto Con l'illuminazione Nel centro storico Prima di questa slide Non so se è fattibile Se no non importa Andiamo avanti Eccola qua Entro fine mandato Quanto le manca Sindaco per la fine del mandato Non manca tanto No perché a maggio 2024 E poi che cosa farà? Se non mi sfiduciano prima Anticipo la domanda di chiusura Della puntata Non lo so Io sono dipendente Di Intesa San Paolo Quindi ho il mio stipendio Di Intesa San Paolo Ho avviato un bel percorso All'interno dell'amministrazione comunale Quindi a volte fa anche piacere Proseguire i progetti Che vengono iniziati Io sono a disposizione Di un gruppo Secondo me Altamente qualificato Che mi ha accompagnato In questi 5 anni Che mi ha accompagnato Prima del mio mandato E quindi siamo un gruppo Con cui condivideremo Abbiamo condiviso un percorso Ci siederemo anche a breve Perché comunque L'organizzazione va fatta Nei tempi e nei modi E vedremo se il gruppo Vorrà che io Sia a disposizione Io sono a disposizione Se il gruppo valuterà Che io mi debba mettere da parte Sono disponibile Per lasciare spazio Che è più volentavoso Poi andremo avanti A raccontare anche gli altri progetti Ma del percorso Che lei ha fatto Sino ad oggi Ne è orgoglioso? C'è qualcosa Che avrebbe fatto in più O che avrebbe evitato? Allora Avrei fatto molto di più Questo sì Però sono contento Di quello che ci siamo Prefissati Abbiamo circa 14-15 milioni Di interventi Su Monbaroccio Cantierabili Cantierati E sicuramente Cantierandi Perché a parte la palestra Che sono un milione Centomila euro di intervento Di cui aspettiamo Il nulla osta Della Corte dei Conti E gli altri Sono tutti C'erano tutti cantierati Entro la fine del mio mandato Altri sono finiti Altri stanno partendo Altri partiranno Per esempio Un progetto che mi inorgoglisce tantissimo È la piazza Villa Grande Con la scuola di infanzia sotto Un progetto che è arrivato Primo a livello regionale E che fa della scuola Il primo punto sociale Di un territorio In una frazione In cui manca una piazza E quindi che la scuola Diventa fulcro di tutto Sono abbastanza contento Sono uno che si accontenta difficilmente Quindi credo sempre Che manchi qualcosa E che si possa fare sempre meglio Si possa fare sicuramente sempre meglio Dico sempre Cerco di sbagliare il meno possibile Però Qualcosina abbiamo portato a casa Quindi sono abbastanza contento Andiamo in pubblicità Qualche minuto E poi torniamo qua A parlare con il sindaco Tra poco Siamo di nuovo in diretta Con il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci Vado subito a leggerle Qualche messaggio che è arrivato Parto dall'ultimo Meraviglioso Il nostro sindaco Commentano Speriamo ancora Per altri 60-70 anni Monbaroccio Non è mai stata così bella Quindi Un bel complimento E poi le chiedono Quando arriveranno I rimborsi Della Tari Questa è una bella domanda Questa mattina Mi sono confrontato Con la ragioniera Perché ho assistito Una telefonata in diretta Da parte di un mio concittadino In questo caso Era una concittadina Che lamentava Questa questione E parlando con la ragioniera Ho cercato chiarimenti Perché non era Conoscenza di questi ritardi Che hanno visto coinvolgere subito Marche Multiservizi Da parte dell'amministrazione Che ho chiamato più volte E sono impegnati a organizzare subito Un tavolo di lavoro Che mi auguro sia fatto Il prima possibile Perché non è possibile Che un cittadino Deva avere una Tari Quando è ora di pagare Il cittadino paghi Nei tempi e nei modi Quando ora di avere un rimborso Tardino più di un anno Questo è inammissibile Quindi mi prendo l'impegno Come ho già fatto stamattina Ma anche per interfacciarmi Direttamente con l'azienda stessa Per chiudere la questione Nel più brevissimo tempo possibile Un altro messaggio per lei Per la frazione di Montegiano L'illuminazione sarà cambiata Come a Monbaroccio? Assolutamente sì Perché era prevista Già per l'anno scorso Con 50 mila euro Di fondi stanziati Abbiamo avuto un problema Con il ministero Che non ci ha riconosciuto Il ribasso A fronte dell'incarico È arrivata la notizia Che il ribasso si può spendere Quindi ci sono 20 mila euro Montegiano avrà un intervento Di 15 mila euro Perché parlando con il tecnico Sono sufficienti Per cambiare tutte le luminarie Di Montegiano E quindi è previsto Per quest'estate Non appena finita la scuola In cui il nostro autista Si trasformerà in elettricista Allora provvederemo Alla sostituzione Delle lampade a LED Come abbiamo fatto Per tutto il resto del comune A proposito Per quanto riguarda il personale C'è una carenza? Allora Il personale Io sono Di questo sono molto contento Dottoressa Perché siamo arrivati finalmente Ad avere una pianta organica Completa Che a fronte del periodo Del covid Mi vedeva a me Come responsabile Del secondo e terzo settore Cioè io facevo il ragioniero Del comune di Monbaroccio Perché non potevamo assumere Avevamo la figura in uscita Oggi mi ritrovo Con un personale sostituito Per il 75% In ambito amministrativo Ho figure giovani Molto valide Figure anziane Collaborative Anziane Mi perdonino Con più esperienza Molto collaborative Due responsabili tecnici Nuovi Due responsabili di settore Nuovi Un segretario comunale Nuovo E quindi abbiamo Una ventata di gioventù Mista all'esperienza Di alcuni presenti Che A fronte di quella Che sarà la fine del mandato Mi lascia Soddisfatto Per chi Insomma Dal 2024 Al 2029 Dovrà prendere l'incarico Di questo Questo comune Che ho l'onore Di amministrare Aggiungo Che abbiamo chiuso Anche l'inserimento Di due figure A tempo determinato Con fondi PNRR Previsti per i comuni So di 5.000 abitanti Che integreranno Una L'ufficio tecnico Per la progettazione L'altra L'ufficio ragioneria Per la rendicontazione Dei fondi Quindi Abbiamo un bello staff Giovane Dinamico Che Mi lascia soddisfatto Un bel collubio Andiamo avanti Con le slide Prego dalla regia E passiamo Al plesso scolastico In via Zandonai Sì però Devo fare un passo indietro Perché stavo dimenticando Una cosa importante Dottoressa Zonghetti Sul personale Sì Devo salutare Ringraziare Il nostro vigile storico Ah beh Pierfranco Generali Che lo faccio pubblicamente Quindi Franco Non ho avuto modo di vederti Perché c'era le ferie arretrate Come quando uno Deve andare in pensione E si porta dietro Quindi lo faccio pubblicamente Lo faccio davanti a tutti i mombaroccesi Ti ringrazio per tutto il tuo operato Goditi una meritata pensione Per tutti i sacrifici che hai fatto L'amministrazione E tutta la comunità Ti abbraccia con il sindaco Che ti sta parlando Direttamente alla telecamera Cosa che non sono capace Perché di solito Non la guardo direttamente alla telecamera Quindi Tutto il nostro affetto Tutti i nostri ringraziamenti Perché dal primo di aprile Ti goderai Una strameritata pensione E quando qualcuno Lascia il posto di lavoro Dopo tanti anni Rimane sempre Un pezzettino Di vuoto Assolutamente Anche perché Ci si conosce da sempre Una persona Sempre disponibile In un paese piccolo La famosa guardia Come si definiva una volta Oggi vigile urbano Ma una volta Era definita la guardia Per tutto Perché passava Non lo so Dalla strada in difficoltà L'animale in difficoltà La persona in difficoltà Le problematiche Delle sanzioni Però sono un punto di riferimento Importante Per la comunità Quindi un caro abbraccio Un caro saluto Veramente Franco ringraziandoti Per tutto quello che hai fatto Un saluto anche da parte nostra Allora Diciamo Andiamo avanti Con il plesso scolastico Sì Questa è finalmente La fine di un lavoro Che ci ha visto coinvolti In tutto e per tutto Discussioni con il ministero E quant'altro Fondi che non arrivavano Perché Quell'ufficio Che ci doveva stanziare Era fermo Da un anno Quindi noi abbiamo anticipato Di cassa Un sacco di risorse Per non bloccare i lavori E ci permette Finalmente Di consegnare Ai nostri ragazzi Una scuola in sicurezza Che è quella di Via Zandonai Scuola secondaria Di primo grado Una scuola che sarà Quasi completamente Efficientamente energetico Antisismica Quindi in totale sicurezza Perché da settembre I ragazzi torneranno Anche se un po' mi dispiace Perché ero abituato A averli in centro storico Vicino a me E quindi i loro sorrisi Della mattina Un po' E la loro vita Della mattina Un po' mi mancherà Mettevano allegria Molta 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 Come mi dicevano Come far rivivere un borgo Una scuola sarebbe La prima soluzione Perché naturalmente Nella sicurezza di edifici Però Torneranno Una loro sede Che li vedrà Svolgere un'attività In sicurezza Un'attività dove Abbiamo anche integrato 60.000 euro Di ventilazione meccanica E quindi avranno anche Un ricirco dell'aria Dedicato a fronte Di quello che abbiamo vissuto Nel periodo della pandemia Una scuola in sicurezza Una scuola con più spazi Una scuola più sicura Che dovrà prevedere Come dicevo E anticipavo prima Anche un intervento Di 1.150.000 euro Per la palestra adiacente Quindi Attendiamo la bollinatura Delle corte dei conti Perché oltre al milione E 8 più 60.000 Quindi siamo intorno a 1.9 milione Di interventi Rallentati Sempre da quella problematica Di trovare il personale In quanto In termini di lavori Su quella che erano strutture Abitative Condominio E quant'altro Portano via risorse fisiche A quelli che erano Interventi della pubblica Amministrazione come questo E quindi Avremo un presso colastico nuovo Importante Sicuro A cui si integrerà appunto Anche la palestra Andiamo avanti Sì Questo è il più sensibile Perché non solo per risultato Attenuto Ma perché vivevo Dall'altra parte della strada Quindi Ho vissuto quella scuola D'infanzia Da quando ero piccolino Ci ho fatto Elementari E sarà una totale Trasformazione Di quello che è l'ambiente Di una frazione Di un contesto Di sicurezza Di una fruizione Di strutture Che Mi sono state contestate Anche da parte Della minoranza Mi è dispiaciuto Perché le facevo Un po' troppo spaziosi Un po' troppo grandi Rispetto a quelli Che erano i volumi Io Se amministro un territorio Lo devo vedere In prospettiva La mia prospettiva È di vederlo crescere Anche in termini numerici E certo Si guarda al futuro Garantendo dei servizi In sicurezza Garantendo delle scuole sicure Garantendo gli spazi Che devono essere garantiti E pensando a Monbaroccio Com'è la mia piccola Roma Quindi se governo Monbaroccio O governo una capitale Per me Lo devo fare Con la stessa passione Con la stessa sinergia Complimenti Andiamo avanti 1.800.000 Per il nuovo edificio Destinato ad edilizia Residenziale pubblica Questo è un altro Corso di Sine Intervento Sì Questo è un intervento Che gridava vendetta Prima Se avete modo Di venire a Monbaroccio Prima di giugno Perché a giugno Partiranno i lavori Vedrete una struttura All'interno di Montegiano Che è una delle frazioni Più piccole Una delle due frazioni Più piccole Che abbiamo Che ha All'interno Al centro di questa frazione Una struttura Residenziale popolare La quale era inagibile È quella gialla Che vedete nella foto Con un solo appartamento Che vedrà sfrattata Tra virgolette L'adriana Che sono andata a trovare Qui troveremo Una giusta sistemazione Ma che prevederà Finalmente All'interno di una frazione Un'area Non solo in sicurezza Ma anche adorna A quello che è giusto Conferire a una frazione Piccolo o grande che sia Ci troviamo A fronte di alcune operazioni Fatti nell'indirizia popolare Ad avere Zero abitazioni Quando ci siamo insediati A disposizione Per il mio territorio Quindi 2019 Zero appartamenti Da destinare All'indirizia popolare Questo Qui un altro intervento Che riguarda Altri quattro appartamenti All'indirizia popolare Avere Da Appena terminati i lavori Quindi io credo Per il 2025 Siano terminati Dieci alloggi Di edilizia popolare Con una gradutore Che andremo a fare Tra il 2023 E il 2024 Quindi Il sociale L'abitativo Problemi forti E sentiti Anche E soprattutto In periodi di pandemia Che non abbiamo tralasciato Anzi Sono soggetti A investimenti importanti Altre risposte Al territorio Andiamo avanti L'illuminazione pubblica Ecco tra Vilagrande e Mombroccio Questo ci tengo tanto Bravissima Grazie dottoressa Perché questa ci tenevo A farla presente Qui cantieriamo A giugno È già stata affidata Alla ditta Il lavoro Quindi a giugno Partiranno Forse anche prima Perché mi diceva L'ufficio tecnico Che già a maggio Potrebbero partire Che riguarda La messa di sicurezza Di un tratto di strada Fra Vilagrande e Mombroccio Sotto il cimitero Che non solo Prevederà il marciapiede Ma prevederà anche Tutta l'illuminazione Un percorso Sentito da tutti i cittadini Perché ci passano E lo vivono tantissimo Tant'è che Andrà a creare Un anello importante Fra Vilagrande e Mombroccio Passando per la via dell'acqua E la definisco Che è quella del pontaccio Che è un valore aggiunto Che Mombroccio ha E che è un valore inestimabile Ma che va a mettere in sicurezza Anche nel periodo dei mercatini A fronte di tanti percorsi Che siete venuti a visitare Nel nostro bel comune Nel periodo di novembre-dicembre Un tratto molto soggetto Anche in periodo dei mercatini Da coloro che Turisti che ci vogliono venire a visitare E che mi mette ogni anno Una grossa soggezione Perché non è in sicurezza Da domani insomma no Ma da settembre-ottobre Sarà un luogo anche in sicurezza Andiamo avanti Ecco qui c'è stato Un accordo con poste italiane Sono quei piccoli servizi Ma che comunque rendono Anche la vita più semplice Un servizio fondamentale Perché avremo un allestimento Di un bancomat in piazza Cosa che mancava Anche per quelli che sono i servizi Nell'utilizzo Di quelli che possono essere Ho detto poc'anzi i mercatini Quindi avere la friabilità Della bancorata Ma soprattutto pagare una bolletta Pagare un F24 Lo si potrà fare Anche dalla piazza di Monbaroccio H24 Ringrazio poste italiane Perché c'è una forte sinergia Con i borghi E questo è un valore Che a poste devo riconoscere Per la grande attività Che hanno svolto Ma soprattutto per la grande collaborazione Che hanno dato Al mio territorio In particolare con tutte le persone Che mi sono interfacciato Di poste italiane E un servizio Che si andrà a implementare Con altri servizi Che vedono una difficoltà Nel territorio In notizia di questi giorni La chiusura Dei istituti di credito Di intesa San Paolo Anche a Monbaroccio Come sarà La chiusura Di altri sportelli Che credo Da piano aziendale Dovrebbero essere Il 50% di sportelli La provincia di Pesorurbino Tra il 2023 e il 2024 Quindi Non solo poste Con cui ci siamo interfacciati Ma altri istituti di credito Sono interessati A fare degli interventi Su Monbaroccio E credo che potremo avere Delle risposte A strettissimo giro Servizi fondamentali In particolar modo In quei comuni Dove non solo sono piccoli Ma la cittadinanza Ha una età Che è piuttosto avanzata E quindi avrebbe bisogno Di un servizio Molto più preciso Importante E continuativo Ma che purtroppo Con intesa San Paolo In questo momento Non è possibile garantire Infatti chiedono Ma visto che la banca Giugno chiude Come faremo Perché sicuramente È un problema Esatto È un problema Ci sono altri istituti Di credito interessati Con cui ci siamo già interfacciati Naturalmente non potrò Avanzare altro Perché sono diversi E quindi So che A strettissimo giro Partiranno anche questi Quindi Uno di questi perlomeno Non abbiamo ancora Tanto tempo a disposizione Vorrei parlare Con lei anche di eventi Però Se riusciamo a commentare Qualche altra slide Velocemente Ne sarei contenta Ecco Il Beato Sante Così apriamo Anche un ampio discorso Benissimo Benissimo Intanto ringrazio La Regione Marche Perché sono tutti Fondi regionali Che vanno Nell'ottica Di quello che è L'evento principale Di quest'anno Il 22 Il 23 di luglio Andremo a Andremo in questo Meraviglioso posto Che è Il luogo da dove Tutto è partito Perché 800 anni fa Quindi 1223 San Francesco ordinò Di edificare Questa chiesa Allora E poi diventò Santuario E poi diventò Santuario del Beato Sante Allora Santuario era quello Di Scotaneto E quindi Da questa chiesa Da questo santuario Partì tutto il resto Un baroccio 200 anni dopo E quindi Devo ringraziare la Regione Per l'intervento 150 mila euro E 150 mila euro Sono già stati stanziati Saranno dedicate All'intervento Di recupero Degli altari All'interno della chiesa Piuttosto che Del refertorio E su questo Con Damiano Commissario Damiano Bartocetti Che abbiamo nominato Insieme al Vescovo E tutto il comitato Abbiamo deciso Di fare un intervento Dedicato Al refertorio Anche in onore Di vari siacucci Perché ci teneva Tantissimo Al recupero Di quel refertorio Che è un luogo Unico E bellissimo Nel suo genere Appunto E il resto Delle risorse Saranno dedicate Al recupero Degli altari I 50 mila euro Successivi Credo Definiremo Con il comitato E col commissario Nonché con gli uffici Nonché con i frati Naturalmente Io pensavo Io pensavo Di proporre La riqualificazione Del campanile Dell'illuminazione E vediamo anche Dell'altro Vediamo quello Che ci potrebbe Riuscire Quindi Nell'ottica Di una riqualificazione Di un santuario Grazie a questi fondi Regionali Andremo a A Fare delle proposte Fondamentali Di Non solo Di fede Non solo Di cultura Ma anche Di quello Che è il principio Di tutta la nostra comunità Ed è un percorso Molto sentito Questo Ottocento anni Sono Forse Uno dei momenti Più belli Che mi vedono Verso la fine Di questo mio mandato E da Da quel santuario È partito tutto Perché quando Ho presentato la lista Quando abbiamo presentato Il programma Siamo partiti Da quelle scale E quindi finisco, tra virgolette sempre da lì e comunque state organizzando grandi eventi per festeggiare questo traguardo assolutamente, ringrazio il commissario e tutto il comitato perché il 22 e il 23 luglio saranno due giorni importantissimi ci saranno degli eventi antecedenti realizzati in particolare dai frati minori che ringrazio del Beato Sante in particolare padre Renato fra Renato che anche segue le parrocchie ci sono altri interventi importanti che riguardano sempre il santuario del Beato Sante lo voglio ricordare, Luci nel buio della Shoah che sarà una premiazione che andremo a rifare a maggio con tutte le scuole che stanno partecipando da ogni luogo d'Italia progetto importante che ha dato là anche a quello che è il docufilm che abbiamo presentato a Berlino, che abbiamo presentato a Roma che ci ha permesso di raggiungere Israele parlando col Presidente Israele e chissà che a settembre non possa partire appunto, eccoci qua ringrazio Roberto Mazzoli che ha avuto qualche momento difficile nelle ultime settimane che saluto e abbraccio fortemente e che chissà che possa realizzarsi anche grazie al produttore americano Armand Julian in chissà che possa veramente nascere un film legato a Monbaroccio legato a Biato Sante legato alla Shoah e al valore dei miei concittadini di allora e di oggi tant'è che nelle figure che sono presenti nella foto che state mostrando ora mi permetto anche di ringraziare la Regione Marche nelle figure dell'assessore Biondi del dottor Gesualdi del dottor Agostini appunto perché Marche Film Commission e la fondazione Marche Cultura ci stanno dando un grosso supporto per andare avanti in questo che è un progetto molto ambizioso e anche molto oneroso quindi cultura, tradizione, storia vi aspettano altri mesi importanti di questo 2023 eventi principali che turnano altri nuovi, altre grandi conferme insomma ogni mese più o meno ci sarà qualche iniziativa esatto, esatto tra inaugurazioni abbiamo parlato di luglio avremo agosto con tutto il voto avremo degli eventi importanti a giugno che riguardano molto Palazzo del Monte a fronte anche della riapertura avremo a settembre l'Avis con i suoi 50 anni quindi saremo concentrati anche per dare il giusto valore a un'associazione che ammiro e stimo molto nell'ottica delle figure che ci sono ma soprattutto con lo spirito dell'associazione stessa e poi si ripartirà subito con i mercatini quindi ce n'è c'è tanto lavoro da fare Sindaco grazie per essere stato con noi grazie a voi per l'invito un ringraziamento anche regia a Cristina Guerra e Riccardo Soara un ringraziamento anche a voi vi ricordo l'appuntamento di domani mattina alle 7 in diretta con Massimo Fughetti buona serata grazie ancora Sindaco Emanuele Petrucci a Chris a a a a a a Grazie a tutti.